Vuoi rinnovare la tua abitazione? Parti dall'alto! Gritti contro soffitti! Buonasera, ben trovati! Siamo a Telemonteneve in diretta, questo è il secondo appuntamento dedicato alle elezioni amministrative in programma a giugno. Con noi questa sera i candidati del comune di Valfurba, do il benvenuto al sindaco uscente Angelo Cacciotto. Buonasera, benvenuto! Buonasera a tutti! Al suo fianco abbiamo Enrico Confortola, benvenuto anche a lei! Buonasera a tutti! Stiamo parlando della lista Forba, l'ho detto bene? Perfetto! Abbiamo per la lista, rilanciamo Valfurba, Gianfranco Sarugge, buonasera, ben tornato! Buonasera e buonasera a tutti gli telespettatori! E Carmelino Puntel, benvenuto anche a lei! Buonasera! Buonasera! Il tema di questa sera è l'edilizia, l'edilizia pubblica e privata, parleremo quindi del piano di governo del territorio, ma non solo, parleremo dei programmi che i vostri candidati hanno in mente per lo sviluppo della vostra valle. Vorrei subito sentire dal sindaco di Valfurba, dal sindaco uscente, se il piano di governo del territorio è stato approvato. Qual è la situazione attuale? Il piano del PGT, il piano del governo del territorio è stato approvato, è stato commissariato perché non rispecchiava i nostri principi, le nostre idee, abbiamo dovuto commissariarlo perché ci avevano imposto determinati vincoli che per noi non andava bene. E' attuativo, è approvato subito dopo per legge regionale, è venuto fuori il problema del piano geologico. E quindi ha avuto uno stop di circa otto mesi perché bisognava aggiornare il piano geologico del territorio. Ora è a posto tutto quanto e l'augurio che posso fare è che ho la possibilità di poter edificare, costruire e di poter fare relative domande. Ecco, subito chiedo a Saruggia di spiegarci che cosa ha comportato questo commissariamento, visto che era stato approvato, se non sbaglio, quando lei era sindaco, nel 2013. No, noi avevamo iniziato a fare il piano di governo del territorio, non siamo riusciti a portarlo a termine e quindi è andato avanti con la nuova amministrazione. Se posso riprendere un attimo il discorso sul PGT? Allora, innanzitutto, lo leggo per non sbagliare, è uno strumento basilare che con la legge regionale del 2005, la numero 12, è stato approvato il governo del territorio. In attuazione, a quanto previsto, all'articolo 117, terzo com, della Costituzione, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze aspettanti agli enti comunali, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggisti che connotano la Lombardia, tale legge prevede che i comuni procedano ad approvare un nuovo strumento di pianificazione territoriale per la definizione dell'assetto dell'intero territorio comunale, denominato piano di governo del territorio, da sottoporre a preventiva valutazione ambientale strategica, la cosiddetta VAS, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente. Ho voluto leggerlo perché questa è la legge da dove è partito il piano di governo del territorio. Noi ci siamo trovati nel 2007 di fare il piano di governatorio, uno strumento nuovo, uno strumento non facile. Abbiamo impiegato cinque anni perché ci sono vari passaggi, conoscere, andare avanti, cercare di sottoporlo a tante cose. C'è il piano dei servizi e il piano delle regole. E quindi alla fine noi non siamo riusciti ad approvarlo ed è stato adottato definitivamente il 20 dicembre 2013 all'unanimità, in quanto noi come minoranza, siccome loro non avevano ancora la maggioranza, è stato approvato. Dopodiché andava fatto un passaggio successivo e loro, come diceva il sindaco, è stato dato al commissario. Il commissario mi sembra che l'ha approvato 2015, se non erro, agosto 2015. Comunque sarà materia di rivisitazione ancora? Allora, questo PGT, se posso, diciamo che è stato buttate le basi. Probabilmente ci sono, come diceva il sindaco, che loro non erano d'accordo su alcune cose, però adesso c'è e però bisogna dare la possibilità alla popolazione di agire e di lavorare. Quindi, se ci sono delle incertezze, c'è qualcosa che non funziona, è tipo un budget flessibile che si può modificare in qualsiasi momento, naturalmente rispettando le regole e passando dalla VAS. Quindi, c'è tutto un lavoro, bisogna prenderlo in mano, vedere quali progetti, cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare. E' ragione per cui, a ogni cosa concreta, se c'è qualche cavillo, c'è qualcosa che non funziona, bisogna rivederlo e portarlo avanti. Bene, grazie Saruggia. Prego, Cacciotto, quali programmi quindi per quanto riguarda il PGT? Il PGT, la prossima amministrazione che andrà ad amministrare, dovrà mettere le basi del nuovo PGT, quindi una nuova programmazione. Mi auguro che chi andrà ad amministrare abbia la possibilità di recuperare quello che si è perso per strada, perché il passaggio del PGT di Valfurro è stato molto, ma molto travagliato. Ho perso tantissimo tempo per cercare un accordo per modificare questo PGT, che era rispetto alle conferenze di servizi che si erano tenute. Il giudizio finale, dovuto dall'autorità ambientale, quindi il parco, è stato molto, ma molto severo. Ha chiuso ogni possibilità di discussione e di poter trattare eventuali piccole modifiche che andavano a favore della popolazione. Siamo stati accusati di speculazione. Io invito a chiunque di andare a vedere il PGT a Santa Caterina. Sono stati penalizzati i privati, ma non le società che dovrebbero costruire, quindi speculare nel territorio. Quindi i privati sono stati penalizzati. Vi è il rischio che in qualche modo possa essere bloccato questo PGT? Ci sono dei ricorsi. Ci sono dei ricorsi pendenti a TAR, però bisogna vedere se si studia un nuovo PGT, cosa ha valore il ricorso, se possono decadere o meno. Questa sarà poi una questione di avvocati, di magistratura amministrativa. Ma va bene o va modificato? Per me va modificato. Va recuperato quei terreni dove la popolazione ha dovuto, nelle successioni, in particolar modo nelle successioni, sono stati valorizzati terreni edificabili, che andavano a compensare le varie eredità, che nella programmazione di questo benedetto PGT è venuto fuori il problema, che hanno perso valore i territori ed edificabili, sono diventati agricoli. Saruggia, va modificato questo PGT? Come ho detto prima, noi ci siamo trovati perché il PGT è subentrato al vecchio piano regolatore, vecchio piano regolatore che era degli anni Ottanta. Negli anni Ottanta, su intervento della regione Lombardia, si è dato il via un po' a questi piani di lottizzazione, che oggi si chiamano ambiti territoriali. Ce n'erano, io ho in mente, 26-27, e come diceva giustamente il sindaco, la gente aveva, diciamo, un'idea di poter fare la sua casa, di fare per i suoi figli e quant'altro. I PL sono degli ambiti dove più proprietari hanno la proprietà e quindi assieme devono decidere per far partire i lotti. Quindi se vogliono edificare... Se vogliono edificare potremmo partire. È successo questo, è successo che a un certo punto della vita noi, di coscienza, non abbiamo voluto penalizzare chi per 30 anni ha pagato, un po' meno, perché Alice e Limo è arrivata dopo, ha pagato queste tasse. Gli oneri. Gli oneri. E quindi noi abbiamo fatto un cosiddetto travaso. Abbiamo portato tutto nel PGT, tutte queste piani di lottizzazione, però dopo ci sono stati vari passaggi dove sono subentrati i vincoli. Allora, il Parco Nazionale dello Stelvio, la provincia e la regione Lombardia. E quindi, mi sembra, tre ambiti sono stati tolti dal piano di governo del territorio e quindi erano quelli che accennava il sindaco. Dopo bisogna vedere il perché. So solamente che in tutti quegli anni prima hanno avuto molte difficoltà a partire questi piani di lottizzazione. Mi ricordo che eravamo riusciti noi a farne partire uno di Madonna di Monti. Noi, i proprietari, erano riusciti a farlo partire. E mi ricordo un signore anziano che mi dice, finalmente dopo tanti anni riesco a farlo partire. Non è facile, è una cosa un po'... C'è da lavorare, come dicevo prima, bisogna prenderlo in mano anche perché è una cosa che vale cinque anni. E poi dopo o lo riconfermi oppure lo mandi avanti con me. Cioè, bisogna vedere di che cosa stiamo parlando, entrare nel merito e poi poterlo portare avanti. Vi è qualcuno che rischia che non si possa più edificare in questi... Ma io non penso, cioè se c'è, come diceva sempre il sindaco, la prossima amministrazione ha la coscienza e la voglia di aiutare il cittadino, io penso che si possa aiutarli e portare avanti alcune cose. Naturalmente, dove ci sono delle regole ferre, qualcosa che non si riesce a portare avanti, bisogna intervenire, vedere. Probabilmente dovranno intervenire i tecnici della Valfurva, metterci a tavolino assieme, capire dove sono le problematiche e rivedere di rimediarlo. È partito, è una cosa nuova, è nata, come ho letto prima, nel 2005 e quindi con molte difficoltà si è steso. Purtroppo c'erano, penso, questi piani di lottizzazione che hanno creato delle problematiche. Per il PGT abbiamo avuto due richieste di studio di lotti, quindi qualcosa si sta muovendo. Giustamente, come ha accenato il Sarugia, ci sono tre ambiti amministrativi che devono esprimere il giudizio, regione, provincia e parco. Regione era favorevole, eravamo riusciti a convincere, abbiamo fatto la riunione, andava bene il piano, la provincia si poteva bypassare in consiglio comunale, rivalutando il suo giudizio e lo scoglio grosso è stato il parco, non essendoci il piano del parco, l'alimento del parco, hanno avvocato la legge di tutela ambientale assoluta. avvocando quella legge, in pratica 20 minuti prima del consiglio comunale, non è stato possibile modificare niente e ci siamo trovati costretti a adottare il piano, ma non approvarlo definitivamente. Una cosa che era importante, che abbiamo trovato nel PGT, sono i famosi corridoi ecologici all'interno del parco, ho chiesto il significato di questi corridoi ecologici all'interno del parco, nessuno è stato in grado di spiegarmi, perché se il parco di per sé è già un corridoio ecologico tutto il territorio, non specificamente dove vi erano le possibilità di edificare, quindi i proprietari sono stati penalizzati anche da questa forma di vincolo di corridoio ecologico imposto nelle periferie delle frazioni di Valfurra. È vero che il PGT dura 5 anni, ogni 5 anni va riproposto, se non viene preso in considerazione e portato avanti lo studio, il consiglio comunale dovrà prorogare quello che c'è, però dopo diventa molto ma molto probabile che si impongano veramente i vincoli. Noi abbiamo installato un buon rapporto col parco, entro il 19 di gennaio del prossimo anno va chiuso il piano del parco e quindi questo sarà un motivo di chi andrà a amministrare di andare a dialogare col parco e di trovare la soluzione di estromettere non solo i centri abitati dal territorio del parco, ma anche i terreni edificabili, portarli fuori dal territorio del parco, in modo che poi la popolazione possa crescere e vivere nel territorio del parco, come giustamente ha detto il ministro Galetti in occasione della sua visita a Bormio, che nell'interno del parco ci sono delle comunità e devono vivere di quello che il territorio offre. Quindi un parco che sia una risorsa e non un limite. Esatto, il parco deve essere una risorsa e deve aiutare la popolazione a migliorare non solo la vita agricola, ma anche la cultura del rispetto. Cosa prevede il PGT? Scusi? Cosa prevede il PGT? Che quali possibilità di sviluppo prevede? Il PGT prevede tutta la parte edificabile di sviluppo turistico e quindi la parte che va a regolamentare il sistema delle costruzioni di tutti i servizi che vengono offerti alla popolazione. È un documento di base molto importante e questo giustamente va tenuto in considerazione perché bisogna informare anche la popolazione dell'opportunità che può offrire anche il PGT se fatto in maniera soddisfacente per la popolazione stessa. Posso, allora, di quello che diceva il sindaco perché nel contempo che si stava facendo il PGT è subentrato il piano territoriale d'area. Il piano territoriale... Il Pt-R-A, il famoso Pt-R-A. Il Pt-R-A e il piano territoriale d'area il nostro PGT ne ha tenuto conto e sono appunto quei corridoi che ne parlava. E quindi a oggi mi risulta che sul Pt-R-A non si sa ancora cosa fare. So solamente, io sono fuori da questa cosa e non lo so, so solamente che hanno istituito una commissione e il vincolo grosso... Non è ancora esecutivo, è stata formata una capina di regina Allora, il vincolo grosso è stato proprio del Pt-R-A. Una cosa e poi... Quindi il PGT ha tenuto conto del nostro PGT... Il nostro PGT nel contempo perché era... Ecco, per chi forse da casa non sa quello che è accaduto alcuni comuni dell'Alta Valle hanno fatto ricorso contro questo piano di governo del territorio della media e Alta Valle, quindi di Vigno e Val di Dentro. Mentre la Val Furva? Allora, la Val Furva per quanto mi riguarda noi avevamo fatto più osservazioni alla regione, tante osservazioni e poi erano state fatte... L'ultima l'ho fatta a febbraio o marzo alla comunità montana e alla regione. So che la comunità montana ha scritto alla regione Lombardia delucidazioni su alcuni passaggi e su alcune cose sono state risposte dalla regione Lombardia. Allora, mi sembra che hanno scritto ottobre, hanno risposto ad aprile, ma però non le hanno portate nel Consiglio regionale della regione Lombardia. Hanno fatto delle delucidazioni, ma non hanno... E poi dopo, tant'è vero, che hanno fatto questa commissione della cosa. Allora, io dico, la Alta Valtellina che ha il piano territoriale d'aria calato dalla regione Lombardia. Perché i comuni non si mettono a tavolino e formano un piano di governo di territorio, visto che si parla tanto di comune unico e quant'altro? Io penso che forse bisogna cominciare dai servizi, dalle cose che servono al cittadino, perché se no siamo sempre qui. Il nostro non va bene, quello del vicino è più bello. Allora, io mi auguro che nel futuro la comunità montana prenda in mano questa cosa e facciano un piano di governo territoriale di tutta l'area Alta Valtellina. Condiviso e quindi non calato dall'alto. Ecco, se siete d'accordo passerei però alle opere pubbliche, quello che è previsto, perché il tempo è tiranno e quindi non vorrei poi dimenticare i grandi impegni. Ecco, per quanto riguarda le opere pubbliche. Le opere pubbliche, benissimo. Allora, noi abbiamo scritto nel nostro programma, che è stato consegnato in questi giorni, tra l'altro, nelle case della gente, e siamo su anche un sito che è www.rilanciamo.valfurbo.it e trovate anche le nostre serate. Noi siamo partiti da questo cosa. Bisogna impostare diverse azioni di governo, quella impegnata sul versante del presente, quindi la manutenzione, la messa in sicurezza e la valorizzazione delle risorse esistenti, e quella rivolta al futuro, ovvero l'immaginazione del comune che vorremmo, in termini di servizi, vivibilità, ambiente e paesaggio. Come? Tramite scelte chiare, condivise, dettate dal coraggio di reinventarsi. Noi di sicuro nel nostro comune abbiamo tante risorse umane, tanti giovani, e quindi bisogna avere idee per portarle avanti. Il presente è naturalmente portare a termine i lavori in essere. Non saremo noi, qualora andessimo ad amministrare, fermare le opere in corso. Uzza, bisogna chiudere questo capitolo e avere la possibilità di mettere a posto questa strada. La ciclabile e la manutenzione, perché qui si continuano a fare tante opere, ma dopo bisogna fare anche la manutenzione, quindi bisogna andare a vedere cosa fare. Per quanto riguarda il comune che vorremmo, bisogna avere delle idee. Allora, una fra queste, io penso che in Altaventellina bisogna parlare di collegamenti sciistici, perché ricordiamoci che il nostro obiettivo è il turismo, il turismo allargato su tutti i fronti, agricoltura, biciclette, tutto quello che volete, ma penso che il collegamento sciistici, sciistico sia una delle cose importanti. È possibile in Valcurva? E poi anche quello stradale. Stradale, io vedo verso lo Stelvio un tunnel per andare verso il nord. Queste, ecco, naturalmente queste cose, visto che siamo tra l'altro in un parco, abbiamo il 98% del parco, il nostro territorio, bisogna avere un occhio di riguardo all'ambiente. Io penso che ci si mette a tavolino e si riguarda il piano del territorio d'aria e quant'altro qualcosa si può fare, perché oggi come oggi sono ambite le zone turistiche dove si fanno chilometri di piste e noi siamo molto deboli su questo fronte. Quindi se vogliamo dare un aiuto a chi ci vive, a chi vuol rimanere, a chi vuol ritornare, dobbiamo gettarci su questa. Non lo so come, dobbiamo studiare proprio perché questa è la cosa fattibilità per i turisti, per i nostri albergatori, per i nostri commercianti e quant'altro. Cacciotto, prego, il programma quindi delle opere, quelle che sono in attuazione, quelle che devono essere completate, quelle che invece vorrebbe realizzare se venisse rieletto? Diciamo che l'intenzione è di completare quello che intanto rimane in sospeso, che non siamo riusciti a terminare. A partire da? Oggi c'è stata la riunione giù a Sondrio per quanto riguarda la flana del riunione della galleria che se tutto andrà bene, perché si è creato un tavolo tecnico voluto proprio da il comune, i risultati si vedono e quindi a gennaio del prossimo anno dovrebbe partire l'appalto dei lavori. E questo è un buon segno perché verrà realizzata una galleria di collegamento per Santa Caterina e quindi si andrà a bypassare la frana. Ecco, un intervento importante questo per... Questo è molto importante perché darà la possibilità e la sicurezza alla frazione di Santa Caterina nel periodo in cui c'è pericolo di movimento, di frana, di poter raggiungere la località senza avere problemi di sorta. Un problema questo che è un disagio che ha impedito anche il passaggio del Giro d'Italia, no? Ritengo proprio di sì. Ritengo proprio di sì perché il Gavia è una salita storica del Giro d'Italia. È una salita storica e molto apprezzata dai vecchi ciclisti che tutt'oggi frequentano nel periodo estivo e spero che si vada sempre a migliorare quella viabilità. E' assurdo lasciare un tratto di strada nelle condizioni in cui si trova oggi, soprattutto sotto l'aspetto dell'asfalto, che è in pessime condizioni perché il Giro l'ha completamente distrutto. C'è da riasfaltare la strada e metterla a posto perché è una strada veramente molto frequentata turisticamente e accorcia il percorso di chi vuole frequentare la Valtellina. Quindi turisticamente è importante. È importante come può essere importante se non dovesse realizzarsi il traforo dello stivio la possibilità di fare un traforo che parta da Val Furba, che vada verso Ponte di Lei. Questa è la vostra idea. Che cosa ne pensate? Ma il collegamento nella nostra amministrazione, non voglio più arrivare di tempo a Carmelino, però nella nostra amministrazione avevamo fatto addirittura un progetto collegamento Ponte di Legno-Valdidentro. Quindi noi siamo molto favorevoli. Mi fa piacere che il sindaco abbia questa idea e quindi approviamo. Carmelino Ponte. Ma io, diciamo, la mia idea è puntare tutto sul traforo dello stivio perché abbiamo la volontà alto-tesina finalmente favorevole. Io ero a Milano un paio di mesi fa che c'è stato fatto con un grosso convegno sulla montagna futura e ho fatto quattro chiacchiere con il vicepresidente Tenere della provincia di Bolzano. Lui ci crede e io sono convinto che se Bolzano ci crede questa opera si farà. Ho meno fiducia nella nostra regione, mi dispiace dirlo, per tanti motivi, perché io sono abituato a dire quello che penso. Però se Bolzano e Trento, in modo particolare Bolzano, ci credono, io sono convinto che il tunnel si potrà fare. Sicuramente è un obiettivo che va a favore di tutta la Valtellina, compresa la bassa Valtellina, addirittura si arriva fino al lago di Como perché i turisti che vengono dall'est hanno una porta aperta, non devono fare ore e ore di macchine, sono più vicini alla loro portata. È un'opera che sicuramente va fatta perché altre soluzioni le vedo molto più critiche perché mancano i finanziamenti, non ci sono i soldi, oltretutto questo sarebbe un'opera anche favorevole all'Europa che finanzia queste opere diciamo transnazionali e bisogna prendere l'occasione e farlo. Altrimenti noi qui continuiamo a parlare, continuiamo a perdere turisti, ci lamentiamo che gli alberghi non lavorano, che i nostri impianti soffrono, bisogna trovare il modo di portare i turisti ma senza fargli fare giri e giri e ore e ore di macchina perché oggi la gente non ha tempo da perdere, vuol partire dalla loro nazione e arrivare in tempi brevi. Io sono convinto che lo stereo si farà per il motivo che ho detto prima, perché ho molta fiducia nei sul tirolesi, chiamiamoli così. Che oggi sono favorevoli. Che oggi sono favorevoli. a me dispiace perché qualche anno fa anche l'Alta Venostra, Val Venostra non era favorevole. E adesso hanno capito che anche loro stanno soffrendo perché se andiamo giù dopo il passo dello Stelvio non è che i paesi Stelvio, Gomagoi, la stessa solda, non è che passino dei momenti tanto felici perché sono abbastanza trascurati anche loro. Questa è un'opportunità anche per loro. Io mi auguro che si vada fino a un fondo e che finalmente ci creda anche Regione Lombardia perché non si può continuare a predicare il quarto motore economico europeo, un sacco di storie. Bisogna fare i fatti perché la gente ha bisogno di fatti e Regione Lombardia che è la prima potenza economica italiana che mantiene tre quarti del territorio italiano è giusto che ogni tanto faccia qualcosa di utile anche per la nostra valle, la nostra provincia e anche per le province limiti lo fa il Como, Lecco e via dicendo. Questo sul lungo periodo. A breve si potrà invece risolvere la questione delicata e comunque importante del Ruinon. Questo progetto di bypassare la frana lo condivide? Lo scorso inverno gli operatori del turismo hanno subito più volte la chiusura della strada di notte, di giorno con disagi non indifferenti. Non si può isolare una stazione in questo modo? Io mi auguro che quello che ha detto il sindaco Cacciotto vada in porto questa galleria artificiale perché si tratta di un tratto di galleria artificiale che risolverebbe tre quarti di problemi forse anche tutti perché se mettiamo in sicurezza la strada che scende ogni tanto qualche rigagnolo di acqua di qualche sassolino perché lì non è che vi è ingiusto però logicamente quando passano le macchine basta che venga giù un sasso anche di piccole dimensioni e rischia di ammazzare la gente. Realizzando questa galleria artificiale che io condivido in pieno e da come si dice i soldi ci sono i finanziamenti ci sono perché Parolo me l'ha confermato anche a me se noi facciamo questa opera sicuramente al 90 e più per cento Santa Caterina mi ha messo in sicurezza chiaro che lì l'opera principale che sarebbe da fare io continuo a dirlo bisognerebbe togliere l'acqua togliere il fiume confinale bypassarlo in cima portarlo verso Cavallaro e farlo scendere verso San Gotardo realizzare anche una bella centralina idroelettrica che noi siamo l'unico comune che abbiamo quantità immense di acqua e non abbiamo una centralina elettrica che produca energia per il comune ne abbiamo una però è privata questa sarebbe un'occasione d'oro perché eliminiamo i pericoli perché si sa che l'acqua fa danni immensi e sicuramente togliendo il fiume confinale anche la frana facilmente si assisterebbe in più si realizzerebbe un'opera fondamentale per la Val Furro perché si dovrebbero recuperare dei fondi importantissimi per reinvestire sul territorio perché se si pensa che la Val Furro circa spende sui 120, 150, 180 mila euro di corrente elettrica se non va derato se noi cominciamo a recuperare quei soldi lì ma sappiamo quanti lavori potremmo fare in più sul nostro territorio creando mano d'opera posti di lavoro che in questo momento è la cosa principale che dobbiamo poi tutti tenerne conto perché se non si crea un posto di lavoro è inutile predicare la gente scappa i giovani scappano e le famiglie a parole non vanno avanti perché a fine mese se non c'è uno stipendio sbarcare lunario è dura molto dura Punti che cosa pensa del collegamento della schiaria? La comunità montana ha rispolverato un progetto lo ha rivisto stanno lavorando a questo progetto che possa collegare le varie stazioni ma il collegamento più fattibile quello che sembra essere alla portata sia per investimento che nelle tempistiche sembra essere quello tra Bormio e Valforma è così? Per me è fattibile se arrivano i finanziamenti perché c'è sempre la moneta che manca noi avevamo fatto fare uno studio un business plan quando eravamo in amministrazione nel 2002-2007 durante il periodo mondiale di C e questo business plan forniva dei numeri che davano veramente dei grossi risultati sia a livello di Val Furua che a livello di Bormio perché è fattibile perché il collegamento da Bormio 3000 a Santa Caterina sia alla schiaria di Santa Caterina è fattibilissimo perché addirittura si erano messe giù delle cose di progetto dei collegamenti senza andare a fare grossi impatti ambientali e diciamo che eravamo a un buon punto dopo sicuramente un po' i finanziamenti un po' i soldi che mancavano un po' il parco che si era messo anche un po' per attraverso però alla fine eravamo riusciti quasi a trovare una quadra col parco perché io il parco poi l'ho sempre definito una grande rosa con tante spine perché le rose sono belle però hanno anche le spine che pungono e allora io sono convinto che come diceva anche il sindaco bisognerà poi adesso prendere in mano la situazione chi vincerà le elezioni dialogare col parco visto che hanno fatto lo spezzettino perché io lo chiamo lo spezzettino perché il parco nazionale scordiamocelo non esiste più bisogna avere il coraggio di dirlo perché Bolzano farà i suoi affari Trento farà altri tanto i suoi e questo è un momento che anche la Lombardia Brescia e Sondrio facciano i loro affari e i loro interessi perché noi non siamo più disponibili a essere sempre sottomessi e a fare e a dover obbedire quando decidono gli altri questo è inaccettabile Grazie Puntel Enrico Confortola cosa pensa di quello che abbiamo detto sinora? Il discorso anche dal bypass è più che giusto perché Santa Catarina è un po' l'occhiello dello sciatore abbiamo anche vari campioni le piste sono belle anche il discorso di attaccare le due schiare sarebbe una bella cosa come fanno tanti posti la gente arriva da una parte scia dall'altra però ci vorrebbe anche anche una fluizione delle macchine anche su altri posti come esempio la strattoria di Uzza che è un punto molto delicato trovare il sistema di passare perché al giorno d'oggi come dicevano anche Puntel anche il sindaco di Sarugia ci troviamo tanta gente che è sempre fretta e si trovano sempre tutti che suonano in vari strettoie e niente più dopo il discorso anche per un paesaggio montano ci vuole la tranquillità è sempre bello vedere l'agricoltura che fa alcia il turista che cammina nei sentieri e questa sarebbe una buona opportunità dialogando con il direttore del parco a riuscire a trovare una convenzione tra la popolazione e il traffico e quant'altro perché al giorno d'oggi siamo tutti abbiamo poche risorse e dobbiamo andare avanti e la gente deve vivere nel bel furbo quindi perché se tutti scappano possiamo chiudere anche tutti quindi a questo punto è meglio darci una mano tutti insieme una collettività tra di noi e riuscire a fare qualcosa sia per un settore che per l'altro sia quello alberghiero che quello agricolo che i posti letto sono sufficienti? su quel lato lì penso che ci sia una buona risorsa gli albergatori penso che se ci sarebbe gente lavorerebbero penso anche a ottobre e a novembre logicamente il boom è sempre d'estato d'inverno e sarebbe bello invece che destagionalizzare trovare il modo per far arrivare la gente anche non sono mai ai sufficienti vi sono anche tante case chiuse in Val Furba sì sono le seconde case che purtroppo nessuno è stato capace di metterle in offerta dar la possibilità di affitarle di trasformarle in posti letti caldi alziché freddi esatto per quanto riguarda USA posso assicurare che la provincia è partita ha fatto già le conferenze di servizio quindi è partita a fare gli spropi quindi si andrà a migliorare la viabilità per quanto riguarda USA però la strettoia rimane rimanerà più piccola nel senso si accorcia il il pezzo della strettoia rispetto a quello che era il progetto iniziale poi volevo ribattere appunto per quanto riguarda il traforo dello Stelvio la regione Lombardia si è mossa e si è mossa anche bene perché ci ha fatto già vedere la progettazione lo studio di progettazione per quanto riguarda i trafori sia stradali che ferroviari dove va a coinvolgere l'alta Valtellina con l'Alto Adige compresa anche la Valmonastero quindi la regione Lombardia sta trattando cercando di una sintesi di trovare il progetto migliore da poter proporre e realizzare come collegamento che potrebbe essere stradale o ferroviario o un con un binario o due binari o addirittura il trasporto delle macchine su treno queste sono scelte che faranno poi i politici a livello di regione di quindi di Trentino Alto Adige poi per quanto riguarda la frana del Ruinon posso dire che oltre alla galleria sono che ha un costo di 5 milioni di euro c'è la possibilità di trovare altri finanziamenti che la regione Lombardia ha già chiesto ha già chiesto sono finanziamenti per quanto riguarda il drenaggio vero e proprio della in profondità dell'acqua della frana la possibilità di fare un il posizionamento di tubi lungo l'alvio del fiume quindi bypassare in caso di caduto di materiale del torrente Frodolfo mi hanno accenato che c'è la possibilità di prolungare la ciclo pedonale fino oltre il torrente Sobretta quindi è già un buon inizio di poter collegare in futuro a Santa Caterina con una pista ciclo pedonale nel versante opposto Un'ultima cosa a Cacciotto volevo chiederle le opere e le attività di compensazione previste dopo i mondiali sono state realizzate? In fase di completamento abbiamo fatto una riunione ultimamente con i privati dove Ersaf che è allo studio ha cercato di conoscere il parere dei privati sulla disponibilità dei terreni se li vogliono conservare o se li vogliono vendere c'è la salvaguarda di un pezzo di torviera che quella dovrà essere salvaguardata quindi probabilmente o si trova un accordo di bermota o sarà ispropriata per quanto riguarda tutto il territorio dell'isola c'è una bonifica da fare si sta cercando di coinvolgere i proprietari per migliorare l'ambiente Punte le conclusioni siamo quasi addirittura d'arrivo di questo spazio riservato alla Val Furva prego Brevemente per chiudere l'escorso Traforo Stelio certo io già dieci anni fa 12 avevo visto tre progetti come diceva il sindaco Cacciotto che li aveva il sindaco di Bormio Cabello Pedranna perché lui ci credeva ciecamente al Traforo dello Stelio che addirittura il traforo più corto erano sui 7 km una stupidaggine se pensiamo che l'ultima galleria di Bormio sfiora quel chilometraggio lì sicuramente io mi auspico che Reggio Lombardia si faccia forte prendendo punto spunto dai tirolesi poi un altro anno noi andiamo anche a votare a rialeggere il consiglio regionale forse l'occasione buona per spingere un po' questi nostri rappresentanti a fare più del dovere come una parola che usavamo spesso noi Cacciotto sa da dove arriva questa parola più del dovere devono fare più del dovere perché non si può più perdere il tempo e le risorse le abbiamo la nostra valle splendida Santa Caterina è invidiata da tutti sicuramente come diceva il Chico posti si ci sono ma bisogna aumentarli secondo me anche perché più abbiamo la disponibilità dei posti da soggiornare e più la valle cresce e offre anche la possibilità di lavoro bisogna lavorare lavorare e crederci però senza sacrificio e senza impegno non si fa niente e deve essere il nostro sprono per andare avanti sarà comunque questo un tema che affronteremo in una puntata che dedicheremo al turismo per cui ne parleremo ancora io ringrazio Carmelino Puntel Gianfranco Saruggia posso solo io voglio ringraziare penso anche a nome dei colleghi Telemonte Neve che ci dà questa grande opportunità di arrivare nelle case dei nostri concittadini a dire a spiegare quello che abbiamo in mente di fare grazie ringrazio volentieri grazie grazie e naturalmente Enrico Confortola voi restate con noi perché tra poco in studio avremo i candidati di Val di Sotto quindi continuate a seguirci sempre in diretta se avete qualche cosa da dire se volete intervenire telefonate o scrivete 0342 970155 oppure infochiocciolatelemonteleve.com a tra poco Ata System Servizio e Cortesia E rieccoci negli studi di Telemonte Neve in diretta per presentare i programmi elettorali dei comuni dell'Alta Valle dopo aver presentato i programmi della Val Furva in ambito urbanistico presentiamo ora quelli del comune di Val di Sotto o perlomeno quelli di una lista la lista Vivere Val di Sotto con noi questa sera Alessandro Pedrini buonasera bentornato buonasera a lei buonasera a tutti al suo fianco Ugo Rodigari benvenuto anche a lei sono dispiaciuta che le due poltrone sull'altro lato rimangano ancora una volta vuote a titolo di cronaca per informare i nostri telespettatori dico che sono stati naturalmente invitati sia verbalmente che per iscritto ma anche questa sera hanno declinato il nostro invito ho parlato personalmente col candidato sindaco Ottavio Scaramellini che invito a partecipare almeno ai prossimi incontri ma che questa sera hanno deciso così e quindi di rinunciare a questa opportunità subito la parola ai miei ospiti Alessandro Pedrini è stato sindaco è stato anche vice sindaco è stato anche all'opposizione conosce molto bene il comune di Val di Sotto da oltre vent'anni si occupa di amministrazione e quindi ha una lunga esperienza qual è la storia del piano di governo del territorio per cominciare? Il comune di Val di Sotto è dotato di un PGT quindi piano di governo del territorio dal 2013 è stato approvato nel giugno 2013 è diventato efficace con la pubblicazione sul bollettino della regione nel novembre 2013 è chiaro che prevedendo la legge regionale un iter di durata di 5 anni il comune di Val di Sotto aveva già attivato negli anni scorsi un cosiddetto monitoraggio del piano del PGT in maniera tale per poter mettere in itinere l'aggiornamento dopo i 5 anni che scadranno diciamo a fine 2018 un aggiornamento importante perché comunque il PGT è il primo ambito prima volta di attuazione nei nostri comuni a livello Lombardia quindi uno strumento urbanistico nuovo rispetto al vecchio piano regolatore di vecchia concezione e quindi ha comunque delle declinazioni che sono comunque nuove che vanno aggiornate costantemente vanno anche trovate delle soluzioni comunque che consentono poi di mettere in pratica le norme tecni che sono gli ambiti attuativi quindi un aggiornamento costante ed è chiaro che questa modifica dovrà essere fatta nel corso di 5 anni Parleremo ancora di questo ma ora vorrei sentire da Ugo Rodigari che da 20 anni fa parte della squadra di Alessandro Pedrini è stato vice sindaco è stato assessore consigliere e quindi anche lei conosce molto bene il suo comune e la vita amministrativa Io prima di parlare di lavori pubblici vorrei fare una riflessione riguardo l'amministrare un comune in questi ultimi tempi non mi pare ci sia una corsa alle poltrone di amministratori anzi a fatica si trovano giovani che vogliono impegnarsi in questo campo ma perché c'è così disinteresse per la cosa pubblica per la politica certo l'esempio che viene dal governo nazionale non ispira a entrare in politica anzi alle volte verrebbe la voglia di una rivoluzione di un ripulisti generale specialmente quando certi personaggi non riescono a capire che la solidarietà e la sensibilità dovrebbe partire da loro stessi quando ci sono milioni di italiani che faticano a vivere e a soddisfare i bisogni primari della persona invece no sono tutti diritti acquisiti intoccabili come gli stipendi dei parlamentari che sono i più elevati in Europa un piccolo segnale di riduzione dei loro privilegi e competenze non risolverebbe i problemi ma renderebbe più credibile il loro operato detto questo ritorno al nostro comune ai nostri comuni coloro che si impegnano ad amministrare hanno poco nulla a che fare con i politici per me sono dei volontari che dedicano un po' del loro tempo per il bene comune per migliorare la vita e dare maggiori servizi a coloro che vivono nel comprensorio un buon amministratore dovrebbe sempre operare per il continuous improvement ossia per il miglioramento continuo questa è una parola che mi è rimasta impressa durante i miei anni di lavoro perché i dirigenti insistevano sempre su questo continuo miglioramento certo è più facile e comodo demandare ad altri questo compito perché impegnarsi in prima persona costa un po' di fatica e occupa anche la mente e il pensiero sono consapevole che non tutti i cittadini possono fare gli amministratori in quanto il numero di questi è limitato però sarebbe per tutti un'esperienza da fare anche se logicamente è impossibile metto le mani avanti sapendo che critiche ne arrivano sempre sono pure bene accette quando servono per costruire ma quando sono solo distruttive o peggio maldicenze gratuite allora ci demoralizza con la tentazione di mollare tutto Alessandro lo sa io non volevo più partecipare a questa nuova avventura in amministrazione perché la mia intenzione è lasciare posto ai più giovani dico ho già fatto il mio corso basta lasciamo posto ai giovani però lui stesso e come dice anche so che lo dice Ezio Trabucchi di Val di Dentro è importante che assieme ai giovani ci siano anche un po' gli anziani e così ho ceduto al al corteggiamento al corteggiamento e quindi sono ancora qui a parlare di comune e della cosa pubblica in questo tempo di propaganda elettorale si fanno i programmi per l'eventuale insegnamento amministrativo scrivere opere da proporre è abbastanza facile diventa poi più difficoltosa e lunga la realizzazione dei progetti che devono seguire un lungo iter non trascurando il fatto che per la realizzazione ci deve essere la copertura finanziaria anzi alle volte i soldi da impegnare ci sarebbero ma alcune regole assurde dello Stato ne impediscono l'utilizzo ho sentito anche altre volte altri interventi in passato di Telemonte Neve che si è discutito tanto sulla spending review e sui problemi ad essa connessi anche il nostro gruppo ha elencato per le varie frazioni una serie di opere da realizzare sempre nell'ottica del miglioramento continuo così poi quando me lo chiederà potrò poi parlare anche di opere pubbliche ecco naturalmente noi abbiamo lasciato che il signor Rodigari leggesse questa lettera perché temeva di non avere spazio a sufficienza per dire tutte le cose che aveva in mente naturalmente abbiamo sentito la sua amarezza anche per chi accusa per chi getta l'amo ma poi ritira la mano credo non sia facile mettersi in gioco quando è vero cioè uno si impegna da il massimo cerca di fare il possibile da retta a tutti i suggerimenti che riceve dai propri vicini di casa dal proprio frazionista ascolta quindi ascolta i problemi che vengono suggeriti e quindi io sono abituato quando ricevo dei problemi sempre andare a verificare quello che uno mi dice vado verifico vedo e dico si ha ragione ma forse devo ancora indagare di più forse devo chiedere ad altre persone poi dopo ne parlo sempre il mio stile è quello di dire vado dal sindaco parlo con lui gli espongo il problema che mi è stato esposto e ci confrontiamo assieme ci prendiamo carico e vediamo se è possibile una soluzione secondo me l'importante è sempre quello di dare una risposta al cittadino quando ti chiedono qualcosa devi dire o che non si può fare per questi e questi motivi o che si farà ma ci vogliono dei tempi veniamo subito ai programmi il piano di governo del territorio prevede nuove aree edificabili? no diciamo che la modifica la variante in itine nel piano di governo del territorio va di sotto prevede degli aggiornamenti degli adeguamenti molto limitati di entità veramente molto ridotte innanzitutto legato comunque a delle aree prima casa quindi che hanno un vincolo ben specifico per quanto riguarda edificazione destinazione prima casa poi sicuramente laddove ci fossero delle richieste che riguardano attività turistico-ricettive quindi quello che riguarda affittacamera B&B o ancora addirittura piccole strutture alberghiere sicuramente ci sarà particolare attenzione e poi è chiaro che il piano di governo del territorio come dicevo prima ha necessità di un aggiornamento che riguarda magari delle correzioni nelle norme tecniche oppure nella parte cartografica oppure anche in quello che sono delle aree pubbliche che hanno delle destinazioni magari da modificare quindi prevede delle varianti sì perché comunque in se stesso il PGT ha cinque anni di validità e dopo deve essere comunque riapprovato riadottato che cosa sono i piani attuativi i piani attuativi sono degli ambiti all'interno del piano di governo del territorio in cui sostanzialmente sono previste delle aree edificabili che possono essere residenziali alberghiere turistico-ricettive produttive artigianali e questi ambiti hanno una diciamo devono essere inseriti nei PGT e poi devono essere adottati e approvati dalla giunta o dal consiglio comunale in quanto diciamo la loro realizzazione deve essere fatta a livello complessivo innanzitutto quindi dando delle regole chiare e precise a tutti i cosiddetti lottizzanti quindi a tutti coloro che partecipano all'ambito e quindi non è una edificazione diretta come normalmente succede nelle aree residenziali edificazione diretta nel 2013 è stato approvato il PGT ma poi è calato dall'alto questo piano di governo del territorio questo PTRA piano territoriale ed area della media e alta valtellina che in qualche modo ha messo in discussione le scelte che sono state fatte dalle amministrazioni perché poneva tutta una serie di limiti è stata nominata in una cabina di regia se non sbaglio lei si è confrontato anche con la regione e con gli altri sindaci in tale senso ma questa cabina di regia è attuativa dove ha portato? allora effettivamente i piani di governo territorio di tutti i comuni d'alta valle hanno avuto successivamente alla loro approvazione definitiva questa cosiddetta mannaia del PTRA piano territoriale regionale d'aria dalla media alta valtellina un piano che nonostante la nostra non assoluta condivisione è stato approvato da regione Lombardia negli anni scorsi e regione Lombardia di fronte al fatto che noi come enti locali ci siamo opposti perché c'erano delle valutazioni ben diverse e anche distinte rispetto alla regione su particolari argomenti quali aree domeniciabili contrastava lo sviluppo contrastava non solo contrastava però dava anche delle ulteriori limitazioni che noi abbiamo già andato per dire il parco nazionale nello stevio delle zone di tutela speciale la regione Lombardia ha introdotto delle ulteriori limitazioni ulteriore aria di tutele ampiandole ulteriormente è chiaro che questo ha creato problemi per quanto riguarda quelli che sono i piani di governo del territorio attuali dei nostri comuni quindi i comuni in sé hanno chiesto alla regione l'istituzione di una cabina di regia che desse la possibilità di rivedere e di monitorare il piano d'aria e di portare quelle modifiche che erano necessarie in quanto noi non riteniamo e non ritenevamo corretto il piano d'aria è pendente una sentenza se non sbaglio allora la regione Lombardia ha formalmente istituito una cabina di regia a febbraio del 2014 tuttavia due comuni dell'Alta Valle Val di Dentro di Vigno hanno fatto un ricorso sul piano d'aria quindi la regione Lombardia nonostante l'abbia istituita non l'ha formalmente mai attuata esatto in quanto ritiene che essendo pendente un ricorso su questo piano d'aria contrasterebbe il modificare questo piano con un ricorso pendente ma non era stata trovata un'intesa perché mi sembrava che poi vi fosse alla fine un'intesa tra i comuni compresi Livigno e Val di Dentro assolutamente un'intesa diciamo che noi sostanzialmente i comuni dell'Alta Valle con regione avevano formalmente trovato anche un'intesa su come venire in conto le esigenze del territorio tuttavia il problema è che comunque il piano d'aria è uno strumento urbanistico vigente quindi modificarlo andare a trovare delle soluzioni diverse comporta comunque un iter non semplice anche perché il PTRA il piano territoriale regionale d'aria si inserisce al di sotto del piano territoriale regionale che è lo strumento urbanistico della regione quindi per poter essere modificato deve prima essere modificato il piano territoriale regionale quindi ora vi sono ben tre piani prima di dei PGT comunali sì anzi se sarebbero quattro perché c'è anche il PTCP che è il piano territoriale di coordinamento provinciale quindi SIC parco nuove aree sottoposte a tutela e in più tutti questi nuovi piani che appunto vincolano il territorio veniamo all'area sciabile l'ho già citata sono previsti sviluppi per questa il comune di Val di sotto è di fatto collegato e proprietario anche di territori che vengono tra virgolette possiamo dirlo sfruttati da altri comuni beh sfruttati diciamo che le schiare di o valorizzati val di sotto ha due importanti aree diciamo sciabili che sono quelle del Valle Cetta che è nominata Bormio e quella del San Colombano che è la cosiddetta area di Oga e Val di Dentro è chiaro che noi facciamo da collegamento tra le schiare tra quella di Val Furva quella di Bormio di Val di sotto e la Val di dentro noi all'interno del nostro PGT proprio abbiamo la possibilità abbiamo inserito la possibilità di collegare innanzitutto i due domini sciarbi della Val di sotto quindi quello del Valle Cetta quindi la schiera di Bormio con quella del San Colombano della Val di dentro sono due corridoi di due possibili corridoi di collegamento uno che va da Santa Lucia zona ex Vivaio fino al paese di Oga e poi a San Colombano l'altro invece che collegherebbe la partenza della cabinovia di Bormio Bormio 2000 con le Motte in questo caso però è un collegamento che riguarda anche il Comune di Bormio quindi su due comuni Sette frazioni sono previsti interventi in ognuna di queste? Sì dal punto di vista delle infrastrutture delle opere pubbliche abbiamo un'attenzione particolare su tutte le frazioni perché comunque riteniamo non avendo un unico centro abitato che essendo anche in un ambito turistico di dover sviluppare di dover migliorare quello che è l'attrattività di alle frazioni e il vivere anche dei nostri residenti quindi in ogni frazione abbiamo previsto degli interventi ben specifici e mirati vorrei dirci quali sono quelli principali? I principali interventi per quanto riguarda il Comune di Val di Sotto riguardano sostanzialmente i progetti sulle aree interne quindi i fondi comuni confinanti a che cosa avete pensato? Allora ce ne sono quattro di progetti che riguardano solo specificatamente Val di Sotto uno è su Santa Lucia e la riqualificazione dell'ex vivaio Ersaf e dell'area ex Lauro quindi un progetto di valorizzazione ambientale turistica con il completamento della pista ciclabile Sintiro-Valtellina che già arriva fino a un certo punto la riqualificazione con la creazione di un laghetto uso sportivo uso turistico percorsi pedonali una valorizzazione di tutta quell'area che attualmente è degradata un intervento di 2 milioni e mezzo di euro finanziato da circa 2 milioni sul fondo comuni confinanti e poi si vorrebbe creare un parco avventura tipo simile a quello che abbiamo anche nelle regioni alpine tipo l'Alto Adige o anche l'Austria poi il secondo progetto importante è quello del Forte di Oga che è una valorizzazione di tutto il compendio del Forte di Oga due anni fa è stato trasferito a titolo gratuito dal De Magno con il Val di Sotto quindi adesso siamo proprietari di tutta l'area quindi abbiamo un progetto di 6 lotti che valorizza il vecchio forte compreso anche tutti gli edifici attualmente non utilizzati si pensa anche a una valorizzazione non solo dal punto di vista museale culturale storica ma anche turistica con la creazione di una parte ricettiva a uso stello in quanto riteniamo che ci sia un turismo importante legato alla parte del Forte di Oga e poi anche l'ambito è chiaramente legato al San Colombano per fare dei numeri il Forte di Oga attualmente in provincia è la prima struttura come passaggi fa 10 mila presenze all'anno dal punto di vista delle strutture culturali in provincia di Sondo quindi è sicuramente molto importante altri due progetti Fondo Comuni Confinanti Area Interne sono l'alleguamento degli ambulatori della biblioteca quindi risparmio energetico sistemazione igienico e sanitaria e la realizzazione di una centralina sull'acquedotto comunale in località Drazza questo porterebbe comunque un bel valore aggiunto al bilancio del comune perché comunque sono entrati in parte corrente che andrebbero a vantaggio nel nostro bilancio sono previste altre opere pubbliche non finanziate dalle aree interne certamente diciamo in ogni singola frazione abbiamo previsto diciamo dalla riqualificazione che è già iniziata negli anni passati ai centri storici e quindi abbiamo una parte delle frazioni che ancora deve completare quella che è la riqualificazione delle vie abbiamo il completamento delle piste ciclabili in questo caso ad esempio su piatta poi abbiamo la sistemazione di alcune altre vie la ripavimentazione e tutti questi interventi che vengono che sono stati abbiamo elencati nel nostro programma noi abbiamo la fortuna di poterli realizzare anche con altri fondi non quelli fondi comuni confinanti perché il bilancio fortunatamente ce lo consente dal 2015 anzi 2014 Regione Lombardia ha modificato una legge regionale che consente l'utilizzo dei fondi delle acque minerali ai comuni in cui c'è la sede degli stabilimenti che imbottigliano in questo caso Val di Sotto con San Pellegrino Terme ha fatto diciamo una battaglia con Regione la Regione ha riconosciuto che i territori avesse lo diritto a una compensazione per il fatto di questa presenza sul territorio di questi stabilimenti e quindi al 2015 Val di Sotto usufruisce di circa 800-850 mila euro all'anno di investimenti che può utilizzare per migliorare e per fare sostanzialmente tanto per il nostro territorio Incredibile quante risorse hanno i nostri comuni un'ultima cosa per i cittadini è previsto qualcosa in ambito di edilizia privata avete in mente qualche agevolazione qualche proposta qualche opportunità? Sì allora per quanto riguarda la parte sia artigianale che turistica pensiamo degli incentivi in termini dal punto di vista di scomputonio di urbanizzazione quindi una riduzione per coloro che fanno degli interventi che sono nel campo turistico o nel campo produttivo perché riteniamo che comunque l'agevolare le nostre attività sia importante per l'economia locale questo sicuramente a livello anche di urbanistico abbiamo previsto nell'ambito del PGT comunque la possibilità anche di utilizzare degli spazi ad uso turistico ricettivi vincolandoli qualora uno anche non avesse più la possibilità di farlo proprio per dare la possibilità di migliorare le nostre strutture le piccole strutture anche uso turistico Ugo Rodigari le sue conclusioni perché purtroppo il tempo è tiranno e quindi anche questo spazio è già è già saturo sì mi aveva detto preparati sulle opere pubbliche perché ti interrogano lì ma visto che ha già parlato molto bene lui per cui io sono contento così niente una cosa che mi sta a cuore per la frazione di Cepina che non è tra l'altro la mia frazione è comunque risolvere il problema della via Roma del paese perché noi continuiamo come settore manutentivo a versare tutti gli anni a impegnare tutti gli anni delle somme che vanno 100.000 120.000 50.000 euro per manutentare quella strada che è sempre rovinata resiste due anni e poi quindi va presa una soluzione radicale va rifatto va studiato un progetto in modo da togliere tutti quei tombini che sono attualmente sulla sede stradale e risolto quindi il problema preparando il fondo e quindi asfaltando come si deve come è giusto fare affinché chi vi transita con le biciclette lo faccia in sicurezza lo faccia in sicurezza grazie Ugo Rodigari e grazie ad Alessandro Pedrini grazie a voi dell'ospitalità naturalmente per il prossimo appuntamento che ve lo ricordo è fissato per martedì 23 maggio mi auguro vi possa essere anche il candidato o i candidati dell'altra lista questo perché a noi preme presentare i progetti e i candidati tutti i progetti e tutti i candidati che si mettono in gioco per questi comuni restate con noi perché tra poco in studio avremo i candidati del comune di Val di Dentro grazie e rieccoci in studio a Tele Monteneve in diretta per questa terza parte di speciale elezioni verso le amministrative di giugno 2017 con i candidati del comune di Val di Dentro ve li presento sono quattro volti nuovi e di questo sono davvero molto felice perché in tanti anni non mi era mai insomma successo di avere candidati così giovani e completamente nuovi alla vita amministrativa per la lista Val di Dentro 2027 vi presento Ivano Schivallocchi benvenuto buonasera a suo fianco abbiamo Enrico Maccarini benvenuto buonasera per la lista e l'esperienza si apre al rinnovamento abbiamo Gloria Urbani che era con noi anche nella prima trasmissione benvenuta buonasera eros viviani siete tutti nuovi quindi alla vostra prima esperienza con piacere anche emozionati ma questo credo che faccia parte un po' del gioco emozionati per il mezzo che non è facile per nessuno neanche per chi ha esperienza e naturalmente per chi alla prima volta si approccia a questo strumento però sappiamo che siete tutti molto preparati e che avete le idee molto chiare quindi non vi voglio rubare ulterior tempo vorrei subito sapere qual è la vostra visione la vostra visione di lungo periodo sul vostro comune si grazie della domanda noi quando abbiamo iniziato a parlare di lavori pubblici di gestione del denaro pubblico di come vanno organizzati i lavori pubblici abbiamo subito centrato il nostro obiettivo su come un'amministrazione debba valutare quali quali opere portare avanti prima di altre creare delle priorità in base alle esigenze del comune in base soprattutto a una progettualità a lungo termine e con questo intendiamo che quando si fa lo studio di fattibilità di un progetto che possa essere la realizzazione di un nuovo edificio piuttosto che la manutenzione vice esistente è importante valutarne non solo i costi nell'immediato ma anche i costi che avrà la comunità nell'esercizio di questo di quest'opera che viene realizzata cosa intendo dire che quest'opera avrà sicuramente una manutenzione ordinaria straordinaria e poi anche una gestione dell'intervento di chi dovrà poi aprirlo di chi dovrà gestire le attività che vengono svolte all'interno ipotizzando una struttura e questo è fondamentale per evitare di realizzare delle opere magari bellissime magari anche dell'eccellenza del settore ma che poi non riescono a entrare pienamente in funzione proprio perché non era stata immaginata la gestione ecco mi ripeto dell'intervento poi a volte si rischia di affidarsi magari ai volontari che per fortuna la val di dentro richissima di queste cose però sarebbe opportuno prima valutare valutare bene come andrà gestita l'opera ecco questo è un po' il nostro obiettivo principale su come dobbiamo gestire i lavori pubblici e inoltre un altro dei nostri principi di base è che l'appalto per quanto possibile debba essere rivolto ad aziende ad artigiani a professionisti locali sia perché il periodo economico è per tutti difficile perciò se possiamo aiutare le nostre aziende è giusto farlo sia perché probabilmente hanno un occhio di riguardo a lavorare sul territorio che ben conoscono il territorio che poi in qualche modo li dà anche la pubblicità se l'opera viene realizzata bene viene realizzata in modo corretto peraltro adesso la normativa degli appalti pubblici va in questo senso ecco la legge lo permette? sì sì adesso la nuova normativa sugli appalti pubblici permette questa cosa è un articolo che dovremmo studiare ancora nel dettaglio tra l'altro è una sorta di frazionamento? sì prevede proprio la possibilità di fare degli appalti noi li chiamiamo a chilometri zero anche se la normativa non parla esattamente di questo ma prevede la possibilità di un bilancio ecologico minore pertanto di minore movimentazione dei mezzi e noi pensiamo che questo sia importante per il nostro comune per l'opera pubblica a voi la stessa domanda quindi quale visione di lungo periodo? sicuramente anche noi abbiamo un abbiamo in programma diverse opere pubbliche opere pubbliche soprattutto infrastrutture che secondo noi sono necessarie per cercare poi di creare quel turismo perché parlando appunto anche di urbanistica si è sempre detto ci sono le seconde case cosa fare per risolvere il problema delle seconde case quindi cosa facciamo ristrutturazioni incentivi ma il vero problema è sicuramente quello di creare queste nuove grandi infrastrutture che peraltro il mio compagno collega Eros può ben spiegarci quali sono come diceva Gloria l'idea di fondo che abbiamo è una che gli investimenti pubblici sono fondamentali senza investimenti sul territorio quindi per valorizzare il territorio soprattutto per aumentare l'attrattiva turistica del nostro comune il nostro comune lentamente sicuramente andrà a morire quindi ecco in quest'ottica dobbiamo considerare una cosa in particolare cioè che ci troviamo a disposizione occasioni irripetibili rispetto al passato uno stanziamento di fonti fondi ingenti provenienti da appunto progetto aria interna fondi comuni confinanti e la volontà è quella di sfruttare concretamente questa opportunità che ripeto è ripetibile e utilizzare al massimo queste risorse quindi sfruttare concretamente queste risorse andando ad attuare tutta una serie di progetti volti appunto ad aumentare l'attrattiva turistica del nostro comune anche ecco poi in un'ottica più ampia di comprensorio Viviani vuole magari già parlarci di queste opere quali intenzioni avete avete immagino già le idee chiare in tal senso allora per quanto riguarda aria interna in fondi comuni confinanti ci sono una serie di progetti concreti che intendiamo realizzare il primo è la riqualificazione ulteriore rispetto a quella già in corso dell'area di afforni a premadio a breve verrà presentato il progetto preliminare che prevede una riqualificazione generale dell'area tra le altre cose anche il recupero della centralina elettrica che andrà a fornire appunto elettricità a tutta l'area e centrale in questo intervento di riqualificazione ci sarà la presenza dell'acqua termale e questo per due motivi fondamentali il primo è quello di mettere concretamente a disposizione i cittadini val di dentro un bene prezioso come l'acqua termale che c'è nel nostro comune e in secondo luogo anche per ampliare diciamo l'offerta turistica occorre però fare delle precisazioni nel senso che innanzitutto non si parla cioè la nostra sensazione non è di realizzare un terzo cosiddetto terzo polo termale che vada in competizione con le strutture già esistenti ma invece diciamo realizzare un qualcosa che si ponga in un'ottica di complementarità rispetto all'esistente e a dimostrazione di questo fatto c'è già una bozza di accordo tra l'amministrazione uscente e la società bagni per un contratto di somministrazione di acqua termale quindi questo proprio a dimostrare come l'ottica di realizzazione dell'impianto termale vada vista appunto in un senso di complementarità cosa molto importante non secondaria a sottolineare è che come dicevo vogliamo mettere a disposizione i cittadini che va di dentro l'acqua termale tant'è che le vasche che verranno realizzate saranno destinate prevalentemente ad uso di famiglie e bambini e è previsto ecco questa è la cosa forse fondamentale la completa gratuità per tutti i residenti l'altro grande l'altro progetto diciamo concreto legato a aree interne e fondi comuni confinanti è la realizzazione della cosiddetta monorotaia in area Pian della Motta si tratta di un'installazione turistica fruibile 365 giorni all'anno quindi aperta tutto l'anno in pratica una pista da slittino su rotaia che si snoda diciamo ai bordi dalle piste di sci e la finalità di questo intervento è quella di cercare di coprire diciamo così la società impianti dà rischio di perdite perdite che anche quest'anno sono state quantificate in circa 200-250 mila euro e perdite che sono dovute principalmente alla carenza di neve quindi ai costi ingenti da sostenere per l'innevamento artificiale l'ottica ecco ancora più di lungo periodo è sostenere la società impianti quindi evitare che si producano perdite mettere la società impianti in una condizione tale da poter rilanciare un piano di investimenti serio e questo va anche per in particolar modo per andare a rinnovare l'impianto dell'isalita sentiamo a questo punto anche Enrico Maccarini proseguiamo quindi con i vostri programmi i vostri progetti abbiamo sentito sono in arrivo stanziamenti davvero importanti mai accaduto prima per l'Alta Valle una grandissima opportunità che intenzioni avete nel caso la vostra lista dovesse vincere che cosa fareste sareste in linea con i progetti presentati dall'altra lista oppure avete in mente altro vi siete già documentati anche sulle modalità di gestione di questi fondi innanzitutto il discorso dell'area interna va sicuramente puntualizzato il fatto che non tutti i fondi a disposizione per la realizzazione di queste opere sono di provenienza da parte dei fondi confinanti ma serve per tutti e tre i progetti che ci sono attualmente disponibili per Val di Dentro anche una compartecipazione del comune con dei fondi propri quindi già questa cosa è abbastanza importante e significativa nel senso che non sono soldi che arrivano solo ed esclusivamente a fondo perduto per la realizzazione di queste opere ma anche il comune ci dovrà mettere del proprio e questi soldi chiaramente non potranno essere spesi per altri tipi di iniziative detto questo il principio base sul quale ci siamo basati è stato proprio quello che diceva Ivano in apertura ovvero tutti i progetti che noi abbiamo intenzione di portare avanti dovranno avere non soltanto uno studio di fattibilità nell'immediato per realizzare il progetto ma dovranno avere sicuramente uno studio di fattibilità anche per quello che è la gestione dell'immobile dell'immobile oppure della struttura nell'analisi che abbiamo fatto sulle strutture esistenti e dobbiamo comunque pensare che Val di Dentro attualmente ha diverse strutture esistenti che possono essere delle eccellenze posso citare un esempio che è la pista di Schirol che è apprezzatissima da moltissimi atleti anche a livello europeo e internazionale e la utilizzano l'estate per allenarsi ma ahimè non ha quella destinazione tale da poterla rendere fruibile al 100% per questi atleti e spesso la lamentiera che ci si trova di fronte è che si trovano mamme col passeggino sulla pista oppure biciclette questo perché nel momento in cui è stata creata l'opera non è stata creata una gestione questo quindi è uno dei punti sui quali noi andiamo a a porre l'attenzione quindi sulle piste ciclabili questo era semplicemente un esempio per il discorso aria interna il punto che è stato maggiormente che è stato maggiormente seguito da parte dei gruppi di lavoro è stato quello proprio dell'area forni quindi la proposta che viene fatta dell'area forni da parte dell'attuale amministrazione comunale è stata ampiamente valutata quindi non è stata scartata a priori e quello che è la possibilità di dare a quella destinazione una destinazione termale anche complementare dal nostro punto di vista in tutte le analisi che abbiamo fatto non è sostenibile nel medio e lungo periodo per un discorso di costi di gestione e quindi se questi costi di gestione dovessero essere troppo alti andrebbero a ricadere su quello che è il dispendio di risorse del comune ma soprattutto anche per quello che è un bacino d'utenza attualmente riteniamo che non ci sia la necessità di un sistema complementare termale visto che esistono già due strutture che secondo noi rispondono perfettamente a tutte quelle che sono le esigenze e non c'è un bacino d'utenza ulteriore da dover andare a soddisfare quindi non è sostenibile e non è complementare assolutamente per quanto riguarda le altre opere pubbliche invece che avete in mente se ne avete in mente Ivano noi abbiamo fatto ovviamente un lungo elenco di opere pubbliche che ci potrebbe realizzare che vorremmo realizzare nei prossimi anni sempre considerando che il nostro orizzonte temporale è più lungo dei cinque anni ma ci piace ragionare la val di dentro tra dieci anni e anche più perciò abbiamo steso un elenco molto corposo che poi arriverà nelle case dei nostri compaesani e giorni le priorità quali sono? una priorità sicuramente quella che riportiamo importante l'abbiamo inserita nel capitolo della mobilità dolce ed in particolare è il miglioramento delle piste ciclabili il miglioramento delle piste ciclabili perché dobbiamo completare un iter che è stato portato avanti negli anni sia a livello di alta valtellina ma anche addirittura di valtellina intiera col sentiero attualmente il comune presenta il più grosso limite della nostra piste ciclabile è il fatto che da Premadio a Pian del Vino è interrotta perché allo stato attuale non c'è un tracciato ciclabile sono stati presentati sono stati diciamo elaborati nel corso di questi anni delle ultime amministrazioni due progetti uno sulla destra orografica uno sulla sinistra orografica del torrente Viola li abbiamo analizzati entrambi e abbiamo cercato di capire quale potesse essere il tracciato migliore lì diciamo la problematica più grossa è legata al versante al versante franoso che c'è sopra quello che sarebbe l'eventuale tracciato sulla sinistra orografica perciò la nostra idea sarebbe quella di fare uno studio di fattibilità attento e preciso su quel versante capire i costi che dovremmo sostenere per mettere in sicurezza quel versante e soprattutto sempre nell'ottica di una progettualità a lungo termine capire un domani che la ciclabile è utilizzata e ha sopra questo versante essere sicuri che non ci siano pericoli per chi poi la attraverserà anche in condizioni atmosferiche avverse e solo sulla base di questa attenta analisi valuteremo bene le nostre possibilità perché senza questo dato è impossibile adesso trovare la soluzione e poi anche procedendo poi all'interno del comune la nostra idea è quella di mettere in sicurezza il percorso ci sono dei punti in particolare lo ski stadium e la zona delle presure di isolaccia in cui non è ben separato quello che è il traffico veicolare da quello che è il traffico della ciclabile e addirittura allo ski stadium anche la zona dei parcheggi è molto promiscua pertanto secondo noi bisogna andare ad individuare i percorsi e separarli in modo che siano sicuri sicure le persone che attraversano la ciclabile e il traffico veicolare abbia un percorso a parte e lì va poi riqualificata la zona dei parcheggi perché lo ski stadium come diceva prima Enrico è fondamentale per noi abbiamo il biathlon abbiamo una pista di schirole è una grande potenzialità per Val di Dentro perciò bisogna andare a mettere in ordine l'area d'ingresso e poi salendo arrivando alla parte terminale a Semogo abbiamo l'ultimo tratto che ha delle pendenze che non sono che la rendono poco fruibile dagli utenti dalla famiglia dalla persona che non va in bicicletta in modo professionistico perciò lì dobbiamo andare ad analizzare la situazione noi pensavamo di spostarla sull'altro versante del torrente perché l'andamento diciamo della montagna lì è più morbido perciò ci consentirebbe di avere una pendenza migliore e di renderla più adatta all'utilizzo e poi con la ciclabile con la ciclabile abbiamo analizzato ovviamente all'interno dei nostri gruppi di lavoro perché lavorando in questi mesi ci siamo resi conto che tante problematiche tante risorse facevano parte sia di un gruppo ma anche di un altro perciò anche dal punto di vista turistico la ciclabile è fondamentale e per questo abbiamo in mente anche di sistemarla facendo delle piazzole dove ci magari possiamo avere il wifi free di avere delle zone dove si possa riposare dove si possa fare magari il picnic con la famiglia di vendere una cosa turisticamente più appetibile anche per renderla fruibile da tutte le persone che vogliono usarla ecco avete parlato di ski stadium qual è invece la vostra visione della schiarea e dell'offerta legata allo sci alpino anche nelle nelle altre amministrazioni ho posto questa domanda quindi che intenzione avete come vedete l'ipotesi di collegare le schiare piuttosto che le ipotesi di ampliamento delle schiare qui lascio magari parlare Enrico che è più fermato quello che è il discorso dell'ampliamento della schiarea chiaramente è abbastanza vincolato dal piano dal piano d'area quindi su quello che riguarda proprio l'ampliamento in Val di Dentro non credo che ci siano grandi spazi credo che il problema più che altro di ampliamento è proprio quello della destagionalizzazione dell'area nel senso che attualmente è anche uno degli oggetti delle aree interne da cercare di rendere quanto più fruibile durante i 365 giorni dell'anno quella che è l'utilizzo degli impianti è chiaro che un punto a favore della schiarea è quello di non solo d'inverno ma anche d'estate ma anche d'estate su questa cosa non mi permetto di andare oltre per la parte della destagionalizzazione perché è stato presentato già attualmente e è quasi in dirittura dal libro il progetto preliminare della monorotaia e quindi nel caso in cui ci fosse un nostro insediamento chiaramente prenderemo in mano la cosa e valuteremo se ci potrà essere un proseguio su questa operazione oppure no attualmente non abbiamo gli elementi per poter dire siamo favorevoli oppure no una cosa importante è soprattutto per il discorso della schiarea è la valorizzazione di quelli che sono i servizi a valle c'è all'interno dei progetti che abbiamo seguito come gruppo turismo un progetto che magari vi verrà raccontato quando ci saranno i colleghi che hanno seguito con me il turismo un progetto per riqualificare quella che è l'area a valle della schiarea Gloria Urbani prego posso aggiungere una cosa sull'area dei forni che per noi è importantissima proprio la presenza dell'acqua termale è un'occasione da non perdere perché come diceva Eros è sicuramente utilizzabile gratuitamente dai residenti e poi inizialmente veniva vista e veniva diciamo classificata anche da tante persone come le classiche termette in realtà non è proprio così perché adesso sia Bormio c'è la società dei bagni ha diciamo contatti con l'attuale amministrazione e ha presentato questa bozza di accordo per cui verrà poi stipulato questo contratto di somministrazione che secondo me è un passaggio molto molto importante con le varie problematiche delle varie concessioni e nei giorni scorsi tra l'altro il nostro candidato sindaco Ezio Trabucchi ha avuto anche un importante incontro col presidente di Bormio Terme Triacca e anche lui adesso condivide questo percorso e quindi sicuramente un progetto che previsto dalle strategie aria interna è assolutamente da realizzare e a breve arriverà anche il progetto dell'ingegner Forni che sta studiando anche tutta la riqualificazione dell'aria per quanto riguarda per quanto riguarda le piste ciclo le piste ciclari solo una domanda volevo chiederle sull'aria sul progetto aria e forni ma Carini diceva non è sostenibile non è complementare è sostenibile da un punto di vista economico da un punto di vista economico secondo noi è sostenibile per quanto riguarda invece la complementarietà è assolutamente complementare perché i percorsi diciamo le offerte sono l'offerta curativa l'offerta benessere in questo caso sarebbe l'offerta di svago quindi per quanto riguarda l'aria dei forni sarebbe quella fruibile da famiglie e bambini perché qual è il problema i bagni nuovi solitamente cosa succede succede che i bambini al di sopra dei 14 anni non possono entrare e di conseguenza proprio i bagni nuovi ci stanno chiedendo perché non creiamo e facciamo delle convenzioni per permettere non so ad esempio ai genitori di rilassarsi tranquillamente i bagni nuovi e i bagni vecchi e i figli magari li lasciamo del personale all'interno dell'aria forni e anche loro possono usufruire dell'acqua termale tranquillamente quindi in questo senso è complementare perché dà qualcosa di diverso dal momento che sicuramente non va in competitività con sia la società bagni che Bormio Terme perché proprio anche loro sono comunque convinti di questo progetto perché altrimenti non stipulerebbero una bozza o comunque non manderebbero una bozza di contratto per quanto invece riguarda se posso completare la pista ciclabile Premadio Pian del Vino anche per noi è sicuramente importantissimo concludere questo progetto che a proposito di lungimiranza parte nel 2003 2004 quando Ezio Trabucchi era presidente della comunità montana arrivano i soldi dei mondiali cosa fa? Invece di dividerli tra tutti i comuni dice facciamo un grande progetto costruiamo questa pista ciclabile che unisce praticamente l'alta Valtelline va a finire fino all'Ecco e quindi di conseguenza anche noi puntiamo su questa ma rilanciamo dicendo facciamo anche il collegamento pedonale ciclabile dal versante di Cancano fino ad arrivare a Borgonuovo e quindi colleghiamo con la pista ciclabile di Premadio e Piedenosso e quindi questa opportunità per questo diciamo questo progetto consentirebbe ai bikers di escursionirsi di raggiungere il fondo valle di fruire quindi anche di questa pista ciclabile questo diciamo questo progetto secondo noi è fattibile non porterà via dei grandi finanziamenti servirebbe solo la costruzione di un tobotto che poi collegherebbe Cancano con la pista ciclabile permetterebbe quindi questo passaggio in sicurezza ha citato Cancano e mi è venuto in mente la presenza degli impianti di A2A il rinnovo delle concessioni idroelettriche è un problema molto molto delicato perché la normativa è abbastanza difficile perché prima sappiamo che c'era tutto diciamo in mano allo Stato poi c'è stata una liberalizzazione del mercato quindi anche dell'energia e di conseguenza cosa succede? Succede che dovrebbero esserci degli appalti delle gare a dividenza pubblica queste gare purtroppo non ci sono ancora anche per il rispetto della normativa comunitaria queste gare ancora non ci sono erano stati decisi delle proroghe ma poi queste proroghe in realtà sono ancora illegittime si pensava di un diritto di prelazione per i concessionari ma questo diritto di prelazione è stato considerato poi anche illegittimo adesso è un importante partita sicuramente quella del rinnovo e quindi di trovare un patto con A2A per cercare di rinnovare queste concessioni idroelettriche cercare di trovare dei benefici per la val di dentro in termini anche economici vogliamo passare al PGT? Piano di governo del territorio sì allora sul piano che cosa prevede? è stato approvato anche questo abbiamo detto è stato approvato fino all'ottobre del 2014 dall'amministrazione uscente e la stessa amministrazione ha adesso avviato un liter di revisione del piano di governo del territorio anche noi se ci insediremo ovviamente dovremo portare avanti questa revisione anche perché è prevista dalla normativa regionale che è recentemente stata modificata con la legge del 31 del 2014 questa revisione dovrà contenere la correzione di alcuni piccoli errori materiali che sono riportati all'interno della normativa e eventualmente l'amministrazione ovviamente può andare a modificare le previsioni noi pensiamo che gli ambiti che sono stati attualmente previsti diciamo non concordiamo in pieno sugli ambiti che sono stati fatti perché ci sembrano in alcuni punti eccessivi per cui in caso di elezione andreste a modificare in realtà sia la normativa superiore in questo momento è abbastanza stringente c'è un termine che è il 2 di giugno adesso vedremo se verrà prorogato o meno ma diciamo il PGT resterà obbligatoriamente perché la normativa sopra lo vincola resterà bloccato fino a quando non verranno modificati i piani superiori fino a quando la legione e poi la provincia istituiranno dei nuovi indici relativamente ai risparmi del suolo perciò dovremmo restare in attesa di queste variabili che in questo momento non possiamo sapere però ecco sì in linea di massima ci sono alcuni ambiti quelli specialmente dove sono proprietari residenti che noi ovviamente vediamo di buon occhio ce ne sono altre che avremmo valutato diversamente se fossimo state parlare di queste ipotesi di varianti le ipotesi di varianti no ripeto gli ambiti non potendo variare li lasceremo lì noi vogliamo cercare di favorire il recupero del patrimonio dell'inizio esistente soprattutto andando a pubblicizzare con i nostri compaesani le varie possibilità che sono già offerte sia dal PGT vigente e noi vorremmo ampliare la previsione di aumenti volumetrici in caso di di manutenzione dell'edificato e anche le possibilità aumentare l'indice di aumentare la possibilità di ampliare gli edifici nel momento in cui si vanno a fare delle ristrutturazioni importanti o delle manutenzioni straordinarie in modo da rendere le operazioni più favorevole per chi decide di farla per permettere di recuperare quello che è il nostro patrimonio edilizio esistente prima di andare a prevederne del nuovo senza però ripeto andare a modificare i previsioni esistenti e poi all'interno del PGT pensiamo che vada modificata quella che è l'area artigianale che attualmente era stata prevista in località Corva invece noi avremmo individuato un'altra area sempre comunale di proprietà comunale località Tres che ci sembra più idonea sia per posizione sia per morfologia del terreno a questo tipo di previsione perciò quello che è la nostra idea sul PGT è questa poi ovviamente dovremmo stare a quello che la normativa superiore ci imporrà ecco piano di governo del territorio come diceva Ivano che è stato approvato nel 2014 quindi proprio la legge prevede che il documento di piano ha questa validità quinquennale quindi andremo nel 2018 a modificarlo non dico nulla di nuovo come non ha detto nulla di nuovo Ivano perché le due problematiche fondamentali saranno quelle appunto del rispetto della legge del consumo di suolo e quindi si andranno sicuramente a diminuire perché sappiamo che questa legge che è la 31 del 2014 all'articolo 1 al comma 4 prevede appunto entro il 2050 l'azzeramento delle costruzioni e quindi si andranno fondamentali riqualificare delle aree già edificate in sostanza andremo a dire che si potrà consumare suolo solo dopo aver dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica e si potrà consumare suolo dopo aver attuato tutte le previsioni di espansione e trasformazione previste nel PGT per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione secondo me Ivano ha fatto questa critica in realtà dobbiamo dire che un conto è la previsione degli ambiti di trasformazione è un conto poi l'attuazione se noi guardiamo il quinquennio 2012-2017 vediamo che in realtà il consumo del suolo è stato pari al 3% nel comune di Val di Dentro che è molto esteso gli ambiti che sono stati quindi attuati attraverso convenzioni sono proprio minime anche noi andiamo avanti con gli incentivi sicuramente per le ristrutturazioni come diceva Ivano previsto nell'articolo 7 delle norme tecniche di attuazione del PGT nonché variante quindi regolamento edilizio approvato nel 2014 un protocollo allegato a regolamento che è l'allegato 2 per cui andiamo a dare questo bonus volumetrico nell'ordine del 10% per gli edifici in classe A e 15% per gli edifici in classe A più edifici passivi oltre ovviamente al bonus oltre a tutti gli interventi per la ristrutturazione edilizia e allo scomputo degli oneri di costruzione per gli edifici passivi per quanto riguarda questi incentivi ovviamente poi quando andremo ad approvare il nuovo PGT ci sarà sicuramente da valutare bene quali sono anche in termini economici la possibilità e quindi quantificare quanti incentivi possono essere dati per queste riqualificazioni una chiusura cioè il problema delle seconde case va di dentro c'è l'abbiamo detto purtroppo ci sono non possiamo fare nient'altro che ristrutturare dare incentivi ma se non offriamo qualcosa un'offerta turistica maggiore quindi implementazione delle infrastrutture difficilmente la gente nonostante gli incentivi avrà voglia di migliorare di rifare di affittare di dare e concedere in locazione piuttosto che quindi andranno fatte delle trasformazioni di destinazione? andranno fatte sì probabilmente delle trasformazioni di destinazione in base anche appunto a quello che ci porterà da qui al 2018 Schivallocchi cosa ne pensa? non ho capito cosa intende con la trasformazione di destinazione no nel senso ci sono molte seconde case molte strutture esistenti probabilmente chiuse anche quindi servono posti letto per esempio in ambito turistico in Val di Dentro oppure no queste case possono rimanere io quello lascio a Maccarini che ha seguito questo aspetto questo tema anticipa un po' quello che potrebbe essere uno dei temi sul piatto con il discorso del turismo il mio lavoro si è svolto prevalentemente nell'ambito turistico ma come diceva anche Ivano all'inizio le interconnessioni tra argomenti sono state più volte oggetto di discussione proprio per questa cosa è sul piatto uno dei nostri progetti che si chiama Case Vive nel quale cercheremo di creare un servizio inizialmente di tutoraggio per chi ha la disponibilità di questi cosiddetti letti freddi e con questo programma cercheremo di mettere in rete quanto più possibile tutte le case che attualmente sono non disponibili allo sfruttamento turistico questa cosa è evidenziata soprattutto dal fatto che abbiamo avuto segnali in cui ci sono molti condomini che si trovano a non avere il pagamento delle spese condominali da parte di persone che non utilizzano più queste case e quindi le stanno lasciando andare in abbandono il processo non è sicuramente semplice bisognerà man mano portare avanti questo progetto con dei professionisti il comune non si potrà sostituire ad un'agenzia turistica ma potrà fornire quello che è tutto il servizio di tutoraggio per portare queste case a diventare da letti freddi a letti caldi il nostro timore è che Val di Dentro soprattutto su queste abitazioni diventi un esempio di archeologia turistica come purtroppo abbiamo già visto in altre località di montagna in cui questo problema non è stato affrontato se dico PTRA cosa mi rispondete il PTRA è un piano superiore un piano della regione Lombardia il PTRA è il piano regionale che prevede la pianificazione più completa dell'intera regione il PTRA sovracomunale territoriale sì esatto e invece il PTRA riguarda in modo specifico l'area dell'Alta Valtellina ai comuni da Teglio fino a Livigno in particolare il comune di Val di Dentro è gravato da quella che è l'attestata d'area perciò dall'indificabilità di una determinata area perciò in fase di revisione del PGT ovviamente bisognerà andare a valutare insieme a regione Lombardia quali possono essere le aree in cui intervenire e quali le aree in cui non possiamo intervenire ovviamente essendo un piano superiore a quello comunale dovremmo rispettare le previsioni cercheremo ovviamente di contrattare per quanto possibile far capire che in alcuni casi le limitazioni sono un po' eccessive sul nostro territorio perciò bisognerà far capire dove poter andare a modificare questo piano rilacciandomi a quello che dicevamo prima degli ambiti noi riteniamo anche importante poi quando si andrà a fare la convenzione degli ambiti con quelli che sono i lottizzanti cercare assieme di realizzare sì le opere dei lottizzanti ma che ci siano ricadute anche sulla comunità in termini di cessioni di aree che possono essere utilizzate per degli standard per creare dei parcheggi delle aree verdi che tornino attrezzate per il comune e magari approfittare dell'occasione per migliorare quella che è la viabilità interna al comune Gloria Urbani se non ricordo male vi è un ricorso presentato proprio da alcuni di Valdentro con Livigno sul PTRA diceva Ivano il PTRA questo piano territoriale regionale ed area previsto dalla legge 12 del 2005 per cui in caso ci siano delle aree di significativa importanza e siano interessati comunque da opere di interventi che abbiano comunque una valenza regionale il PTRA prevede la possibilità di approvare questo PTRA in realtà cosa è successo? è successo che viene approvato questo PTRA i comuni di Valdidentro e di Livigno procedono quindi sono gli unici dell'Alta Valle che presentano questo ricorso perché si sono resi conto che in realtà è stato approvato senza un reale coinvolgimento dei comuni ma soprattutto perché veniva irremediabilmente compromessa la potestà pianificatoria sappiamo che il comune di Valdidentro per l'85% è vincolato perché c'è sicuramente è all'interno del Parco Nazionale dello Sterbio poi ci sono tutte le zone SIC le zone ZPS e di conseguenza non andare a impugnare questo provvedimento importante era un po' come tagliarsi le gambe con l'impugnazione di questo provvedimento la regione ha iniziato insomma un po' a venirci incontro e quindi ci sono stati numerosi incontri e in questi incontri si è cercato di interpretare le norme in maniera molto meno restrittiva rispetto a quello che poi era previsto il 7 luglio è prevista appunto la prima udienza Altar Lombardia Milano e molto probabilmente mi diceva appunto Ezio Trabucchi che si svolgerà questa prima udienza ma ci sono buone probabilità che tra la regione Lombardia e il comune di Valdidentro con il comune di Livigno si riuscirà a trovare un accordo per evitare poi il contenzioso Due minuti soltanto poi si chiuderà il nostro confronto lascerei la parola a Enrico Maccarini prego per le conclusioni Allora il nostro il nostro intento come abbiamo detto è quello proprio di cercare di creare un lavoro veramente importante soprattutto per il bene della Valdidentro e non voglio essere troppo demagogico su questa cosa ma siamo tutti ragazzi giovani abbiamo deciso di creare famiglia di creare un nucleo stabile all'interno del nostro comune e quindi di portare avanti sicuramente dei progetti che avranno una ricaduta benefica per tutti quindi di conseguenza il focus importante che va sempre tenuto presente è che noi stiamo utilizzando dei soldi che sono a disposizione del pubblico sono molto più importanti dei soldi che abbiamo nel portafoglio quindi vanno utilizzati sicuramente con saggezza prego per le conclusioni proprio ricollegandomi a quanto ha detto Maccarini adesso sull'utilizzo appunto dei soldi pubblici ci tenevo a indicare due interventi che concretamente vanno utilizzando l'interno pubblico quindi investimenti pubblici che vanno a favore dei cittadini di Val di Dentro visto che prima ci siamo concentrati più su investimenti diciamo che riguardano l'ambito turistico e l'intervento che si intende fare strategico importante è un parcheggio pubblico a Semogo ci sono due possibilità di intervento a proposito abbiamo la possibilità di costruire il parcheggio all'ingresso del paese quindi a monte della strada parcheggio su tre livelli con una settantina di posti autocirca dove è ubicato attualmente l'immobile ex latteria c'è già un parere di fattibilità da parte dell'ANAS bisogna però tenere in considerazione ancora il costo complessivo visto che non c'è ancora accordo sul prezzo di acquisto dell'immobile si è però aperta un'importante alternativa interessante che prevede la realizzazione di una strada sotto paese quindi entrando in Semogo una strada che passando sotto il paese si va a collegarsi all'attuale via Viola quindi località diciamo area sportiva di Semogo con realizzazione dei parcheggi in area sottostante alla piazza Santa Bondio in parte a monte in parte a valle della strada stessa perché è importante questa alternativa perché diciamo che si individua in questo modo una bretella importante c'è un'alternativa a livello di viabilità visto e considerato che se dovesse succedere malauguratamente qualcosa se in Semogo ci fosse un problema serio sulla statale non si avrebbe più accesso dai per l'ivigno bene io ringrazio Eros Viviani Gloria Urbani l'esperienza si apre nel rinnovamento alla vostra lista grazie a voi ringrazio Ivano Schivallocchi Enrico Maccarini per la lista a Val di Dentro 2027 e prima di salutarvi vorrei ricordarvi che Speciale Elezioni vi dà appuntamento a martedì 23 maggio alle ore 21 verranno invitati due candidati per ogni lista per ogni comune saremo qui per cercare di illustrarvi quelli che sono i progetti i piani dei candidati dei comuni al rinnovo chiamati al rinnovo continuate a seguirci e se avete domande da fare non esitate telefonateci o scriveteci grazie per la vostra attenzione e buonanotte e buonanotte e buonanotte Air System, felice di servirvi!